Questa sera portiamo in scena il duetto della Madama Butterfly, il duetto di Bohème, poi faremo un bis finale, non so se quello si può dire o meno, forse è una sorpresa, comunque famosissimo, poi Traviata, il classico Brindisi. Per quanto riguarda invece il personaggio che più sento vicino, ce ne sono in realtà forse due o tre, però in questo momento sono molto legato al personaggio di Cavaradossi in Tosca. Mia, solamente mia, quanta passione, Tosca è forse la donna che ho amato di più, o sì, amante inquieta, o mia sirena, dal terzato di Tosca, è Lucia alle stelle, il tenore Alessandro Fantoni. Genoceva le stelle Genoceva le stelle Svarì per sempre il sogno mio Non c'è più quel, come aveva il maestro Pavarotti, di un insegnamento completo, sia musicale che sia scenico, lui ti fermava tantissime volte finché non eri proprio perfetta. Dal lato terzo di Aida uccidi Azzurdi ad interpretarci dal soprano Simona Toda. Aida uccidi 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 Aida U